ok continuo nel contempo ho cambiato il piercing ho cambiato il septum questo qua è brillante non si vede tanto fatto tipo a goccia e questo è il doppio anellino sempre con gli strass vabbè non si vede granché dicevo questa gondellina qua è vintage ed è spettacolare fatta così dice che è una taglia 42 in caso vi misuro la vita perché per me può andare bene anche una 40 è stupenda comunque questa qua viene 6,90 con questi fiori bianchi e neri ed è fatta tipo a vita alta così io sono troppo bassa non mi vedete comunque arriva tipo al ginocchio fa molto stile diciamo fruffruma con anche quella punta gotica che non guasta mai altra gonda che mi piace tantissimo è questa questa è scontata è 80% lana dice che è una taglia 50 è una gonda midi viola 80% lana secondo me non è proprio un 50 perché è vintage quindi qua mi sembra che possa andare sul 46 anche morbido è stupenda e viene 3 euro scontata tutta di lana viola è bellissima ragazzi questo viola qua se volete sdramatizzare una gonda di questo calibro che è stupenda di qualità con il giallo lime così il verde lime spacca se avete una camicetta di quel colore o un maglioncino ma anche adesso con la camicetta io la metterei anche con la gamba nuda quanto vi scalda un sacco poi non so se da voi si usa dire le gambe sono matte abitino qua c'è dentro della seta io qua vi consiglio una S tipo un 38 40 non di più guardate che carino fatto così molto delicato molto leggero e sofisticato una bella trama floreale mi avvicino così vedete il davanti con lo scollo a B e il dietro è fatto così col fiocchettino e viene giù tutto morbidino qui c'è dentro della seta infatti palpabilissima si sente un sacco è tutto foderato allora 70 viscosa 30 seta e la fodera 100 viscosa ottimo materiale Bologna distribuito da IFBSRL via Bonazzi 32 Castel Maggiore molto carino questo abitino qua ragazze il brand si chiama Papperlace London bobo fatto a Bologna Papperlace London bellissimo ragazze viene 6 euro e 50 ed è ottimo anche il prezzo passiamo al desigual è arrivata anche questa camicetta che hanno tagliato proprio la parte dell'etichetta dove c'è la taglia io vi consiglio una taglia media qua per me è un 44 può andar bene ve lo misuro all'occorrenza è una camicetta della desigual fatta così classica stampa intramontabile con i toni azzurri del mare e la scritta dietro desigual molto molto carina da mettere con un bel jeans con le tasche da mettere con io metterei anche dentro roba però anche portata così anche aperta quasi a modi gilet ci sarebbe molto bene viene 5 euro e 90 e stiamo parlando di desigual e che mi è tratto troppo bene io altra gondellina che mi fa impazzire questa mi ricorda tantissimo gli anni 90 è questa marroncina con questi fiorellini bianchi anche questa è una SM è abbastanza elasticizzata e ha i passantili per la cintura che è quella chicchetta in più dove si può impreziosire un outfit io qua vi consiglio si appunto è vintage SM elasticizzata quindi 40 42 non di più è bellissima viene 3 euro e c'ha tutti questi fiorellini bianchi su sfondo marrone molto scuro bella questa con un crop top bianco spacca ragazze fate molto lolitine poi io ci metterei anche il calzino bianco fatto bene e tipo una scarpettina col cinturino bene piace ottimo il prezzo magliettina questa si vede che è una capo di qualità vintage di Emilio Pucci taglia S Emilio Pucci Firenze che spettacolo tutta firmata questa è 40 42 ha tutte le firmettine Emilio Pucci ed è una maglia tipo da collezione quasi guardate come sta bene con questo line bellissima con tutte le firme e questa qui si vi consiglio dice che è una taglia S quindi vi consiglio 40 42 che spettacolo originale ovviamente Emilio Pucci quindi stiamo parlando di un capo firmato 90 viscosa e 10 la stan ottimo anche il tessuto e questa ragazze viene 6 euro Emilio Pucci e ve la sto praticamente regalando blusa di Primark taglia 42 bellissima questa canotta con l'ovale sull'omino sfortunato perché non avevo più mini a disposizione viene 2 euro e 50 bellissima questa canotta seppur di Primark è fatta bene tipo un po' lunghetta così fa quasi a mo' di gilet bella da mettere con un pantalone sotto elegante e un blazer magari pantalone questo è un push up di Berska taglia 38 italiana skinny 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 qua ci vuole una 38 vera è push up quindi vi fa il sedere push up oso in ottime condizioni anche questo skinny super skinny militare molto bello vabbè io ne ho tipo molteplici adesso inizierò a utilizzarvi che arriva la primavera questo qua ve lo metto a 2 euro ed è un ottimo affare vi sconto anche la panigerata bellissima blusa di piazza italia taglielle nuova con etichetta che è qua da troppo tempo costava 20 euro qualcuno si sacrificherà per l'umanità di questa meraviglia qua che siamo su 46 anche morbido guardate che bella dai ragazze cioè non potete lasciarmela qua tutta plissè con un po' di glitterini da abbinare a un pantalone grigio ghiaccio bianco jeans blu rosa cioè qua avete la carta bianca dai guardate che carina e mo ve la sconto a 3 euro nuova con etichetta eh pensate chi me l'ha chi me l'ha data che cioè anche corosa è bella dai è bella altra blusina che è arrivata questa ha il collo alto ed è una taglia unica italiana sai pronto moda con l'elasticino sul fondo bellissima trama floreale queste so che vi piacciono sempre un sacco e fa molto l'effetto vittoriano mi piace tantissimo anche abbinata a un semplice jeans a vita alta o anche con una gondellina eh e questa è infilata dentro però è carina anche che si veda questa qua ragazze viene 4 euro in ottime condizioni bellissime rose bellissimi colori bellissima tutta ascoltiamo anche questo qua di intimissimi oggi mi sa solo due video questo è un cardigan taglia S che prova bene anche M e ve lo metto a 2 euro è in ottime condizioni ha una trama spettacolare è molto carino tipo giacchettina è praticamente nuovo ragazze io so che qualcuno a sto giro si sacrificherà per questa umanità di questo povero cardigan abitino in velluto vellutato Emilio Pucci è svenuto a sentire i prezzi si è sentita male scusami era giovane lo sai che io sono matta quindi a sentire i prezzi è svenuto giustamente sverrei anch'io svenimento in diretta non mi rianima nessuno praticamente fino a chissà che ora vabbè no tantissimo l'aria un'oretta allora non so anche se mi vedo un qua dietro riversa a terra con il suo bomber fluo forse mi vedrebbero oppure penserebbero che sono un accumulo di vestiti che giace sul suolo mi so che ci sono anche le luci spente allora questo è in cotone in velluto bordeaux con tutti i bottoncini tagliamo unica un bel abitino potete impreziosirlo con sotto una camicia carino carino nuovo con etichetta 100 per 100 cotone viene 6 euro e 50 ce lo vedo bene con degli stivaletti lui così o da solo o con sotto ripeto una camicia che va sempre a impreziosire la vostra figura con poco io questa non l'ho stirata era un po' stropicciata ma è stata sull'arella tipo 5-6 mesi adesso vi faccio vedere un po' le maniche perché è un peccato anche se a me questo fluo piace sì c'è dentro il verde fluo vedete però parlavo di giallo ma il giallo non c'è vabbè giallo verde è quello che è e giaceva lì giaceva lì tranquilla sulla rella e si è stirata vedete che io non stiro sì più o meno più o meno è stirata passiamo poi agli ultimi due capi blusa bruciato anche questa è una taglia unica consiglio è sempre fino a 44 molto carina questa qua la manichina è tipo a tre quarti con l'elastichino sul fondo e ragazze viene 3,90 euro bella colore bruciato colori caldi fanno pugni col mio outfit di oggi che sono tutti colori freddi però con i bei colori caldi come il crema il beige i marroni i marroncini i begiolini quant'altro sta molto bene e poi e poi ultimo valore per importanza questo blazer di Bernardi che dura da tantissimo in questo negozio color tortola è uno spettacolo vi consiglio una taglia 40 massimo 42 non troppo abbondante e lui giace qua con questa bottonatura fantastica sono bottoncini a clip che fanno questo effetto Bernardi che è un brand a boutique che c'era qua dalle nostre parti io credo comunque l'ho sentito ancora è un blazer spettacolare ragazzi che vi metto a 2,90 euro quindi qualcuno si dovrà sacrificare per questo negozio almeno e poi cosa c'è ancora da farvi vedere qua ci sono mille cose una cinturina azzura che so che vi piacciono tanto le cinture di Zuiki questa azzura tipo carta da zucchero un po' ve la faccio vedere che è carina per la primavera così con la fibietta così come lunghezza grandezza ieri mi prendevano in giro per la prova delle cinture SM a me a vita alta se la portate a vita alta va così e ci sono ancora dei passantini vedete ci sono ancora dei passanti liberi molto carina questa cinturina viene 1,50 euro bello il colore azzurro guardate che poi sono sempre utili queste cinture perché poi quando ci servono non le abbiamo mai e poi vi faccio vedere un jeggings di Tezenis così a caso prima di chiudere non so se ce la facciamo so che vi piacciono anche i jeggings questa di Tezenis taglia M e viene 1 euro grigio tutto così ottime condizioni jeggings quindi comodità di un leggings effetto jeans ragazze spero che questo video vi sia piaciuto io vi saluto poi ci sentiamo domani che vi farò vedere i nuovi capelli e vi farò gli auguri per la festa alle donne auguri vabbè che dobbiamo festeggiare tutto l'anno che è solamente l'8 marzo grazie a tutti grazie a tutti